con il dispositivo di firma inserito cliccare su PDA e poi su registrazione i dati verranno presi direttamente dalla chiavetta ma completare dove sono mancanti inserire nella sezione user e password una propria user e una propria password che comunque verranno memorizzati all'interno del sistema scaricare le condizioni contrattuali e firmarle in P7M e reinserirle all'interno di Netlex firmare in P7M anche l'incarico di nomina una volta inserito anche questo file cliccare su richiedi registrazione a questo punto si può cominciare ad usare il PDA di Netlex